Radio Monkeys nasce ufficialmente oggi, stasera. Avrà sede in Piazza Vresca, in Gintoneria, dove ci troviamo adesso. Trasmetterà da qui tutti i giorni, 24 ore su 24. Il nostro ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì fino alle 16.30, quindi se volete passare a salutarci, se volete informazioni ci trovate. È una radio giovane, dinamica, però è una radio anche per grandi. Quindi offriamo contenuti per tutti i gusti, generi musicali vari, spaziamo molto tra internazionale e nazionale, IT 24 ore su 24 e soprattutto vogliamo essere anche una vetrina, una vetrina per il territorio. Vogliamo mettere in risalto le attività del territorio, quindi chi è interessato anche a farsi conoscere, noi siamo a vostra disposizione per offrire più uno spazio. Passate a trovarci, sintonizzatevi, ci trovate sul nostro sito web www.montendradio.it e presto su tutte le app, sulle app di tutti gli store digitali e in dub, quindi sulle auto di nuova generazione potete sintonizzarvi comodamente, darle vostre auto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!